buongiorno a tutti oggi vi faccio vedere la ricetta dei baccaron finalmente tanti di voi me l'hanno chiesto ovviamente non l'ho mai fatta quindi adesso ve la faccio vedere in maniera semplice con la bacca di vaniglia e andiamo a fare una farcitura all'interno con una ganascia al cioccolato che voi potrete fare a casa se avete delle uova al cioccolato avanzate aggiungete un panna e ecco fatto seguite A presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.